Ore di paura quelle trascorse nella grotta del Palombara Tropea per due turisti stranieri. I bagnanti si erano avvunturati nella cavità della rupe sulla quale sorge il santuario di Santa Maria dell'Isola, per poi rimanere bloccati a causa delle mareggiate. Spettacolare l'intervento dei soccorritori. Per il recupero della coppia, infatti, si è reso necessario l'appoggio di un elicottero della Guardia Costiera, partito da Catania. Mentre mezzi navali e diverse squadre dei Vigili del Fuoco operavano a supporto. Un'operazione complessa, resa tale dalle condizioni meteo-marine proibitive. Il personale del gruppo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valencia si è infatti calato dal costone roccioso dalla sommità della rupe per oltre 40 metri. Spavento a parte, le attività si sono concluse positivamente per i due villeggianti, che sono apparsi in buone condizioni di salute. Da Tropea per l'AC News 24.